barra inversa. Una possibile notizia sciocca scosso il mondiale, con numerosi rumor sull'addio di Cristiano Ronaldo al Portogallo. La federazione portoghese ha, però, pubblicato subito un comunicato ufficiale per smentire la notizia. I tifosi scaricano Ronaldo, giusta la panchina, meglio Ramos Ronaldo lascia il Portogallo. Le indiscrezioni secondo le indiscrezioni, lanciate da alcuni giornali sportivi portoghesi come Abola e Record. CR7 avrebbe minacciato di lasciare la nazionale dopo aver scoperto che non sarebbe stato titolare contro la Svizzera. Si sarebbe aggiunta, poi, una durissima lite con il commissario tecnico Fernando Santos, che lo aveva rimproverato pubblicamente dopo la reazione al momento della sostituzione contro la Corea del Sud. Contro la Svizzera Ronaldo è rimasto in panchina, subentrando solo al 28 del secondo tempo a gara già chiusa. Non solo, il suo sostituto Goncalo Ramos si è messo in mostra segnando una tripletta. Mondiali, gol con il tiro più forte, altra delusione per Ronaldo. Il comunicato ufficiale del Portogallo la federazione portoghese ha deciso di smentire subito la notizia con un comunicato ufficiale, una notizia rilasciata questo giovedì ha rivelato come Cristiano Ronaldo abbia minacciato di lasciare la nazionale durante una conversazione con Fernando Santos. Il commissario tecnico della nazionale. La FPF chiarisce che in nessun momento il capitano della nazionale Cristiano Ronaldo ha minacciato di lasciare la squadra nazionale durante la sua campagna in Qatar. Cristiano Ronaldo costruisce ogni giorno una storia unica al servizio della nazionale e del paese che va rispettata e che attesta l'indiscutibile grado di impegno verso la Selesao. Infatti, il livello di impegno del giocatore più titolato del Portogallo è stato ancora una volta dimostrato se ce ne fosse bisogno nella vittoria contro la Svizzera negli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2022. La nazionale giocatori, allenatori e staff della FPF è, come dal primo giorno, pienamente impegnata ed entusiasta nel costruire quella che il paese vuole sia la migliore partecipazione di sempre del Portogallo a una Coppa del Mondo. Virgola.